Salve a tutti ragazzi e bentornati su Match Tuning Come ogni domenica vi porto un video su varie modifiche che potete apportare alla vostra macchina sotto una soglia limite di budget Oggi ho ripreso quella dei 10 euro, quindi sigla e cominciamo subito Bene, allora andiamo sul nostro caro Amazon e cominciamo con il primo prodotto Ovvero un pennarello per pneumatici e inchiostro bianco Ho visto amici che ne fanno uso ed è davvero un tocco di sportività in più alla macchina E funziona, ovviamente Costa 6,75 euro, quindi un po' tanto per un pennarello Infatti di solito sta a 2,16 euro Quindi in caso se volete aspettare un pochino prima dell'acquisto aspettate che il prezzo cali Perché starà per i 6 euro per poco tempo penso E poi riscenderà Passiamo subito con il secondo prodotto Questo è un attrezzo più che una modifica È un attrezzo che serve per tirar fuori l'autoradio della Mito o anche di altre macchine Insomma, quello di serie Sta solo 3,50 euro Quindi se avete intenzione di cambiare l'autoradio della vostra macchina questo è un attrezzo che vi servirà Se volete un video in cui vi consiglio un atto radio in cui vi parlo di queste radio alternative alla macchina fuori serie Scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere insomma Andiamo avanti con il terzo prodotto Questo è un kit per il wrapping Nel kit è presente spadolina, taglierino, un altro taglierino 10 lame di ricambio Molto utile, questo me lo comprerò adesso stanno anche in sconto perché sto facendo parecchi lavoretti con il wrapping Andiamo avanti Vi ho portato due lampadine Questo è un set di due lampadine Allogene Che danno l'effetto xenon bianco Ovviamente come dice qua è 4200 Kelvin Quindi non vi aspettate una luce bianca pura Ma è un, diciamo Tipo un led caldo Se vogliamo dargli una colorazione Ecco E infatti come potete notare il contorno della lampadina è blu proprio per dare questo effetto Comunque sia le recensioni sono tutte buone quindi insomma io le proverei Queste invece sono altre lampadine Quelle per la plafoniera centrale e per le plafoniere della tendina parasole Sono assi loro infatti da 36 mm Ci sono anche di altre misure 31 e 42 Io ho installato queste da 36 mm Sono leggermente più grandi quindi ho allargato le alette Però insomma niente di complicato A soli 9,99 euro Ce ne sono 4 Quindi ragazzi Per questo video è tutto Io vi auguro buona domenica E vi seguitemi sempre su Instagram, Facebook E iscrivetevi al canale se non l'avete fatto Lasciate un bel like Ciao a tutti